Bed & Breakfast ti fa, diciamo, 110.000 euro. Togliamo spese di gestione, pulizie, tasi, limo. Ma che veramente devo pagare tassi? Sono sempre pieni di turisti questi. Chi posso avere la fattura? No. Noi accettiamo solo donazioni. Io me la invento una religione. Mi faccio pagare dai turisti con la donazione minima e senza tassi. Prendiamo un po' qua, un po' là, facciamo un mix di gusto, magari, ma un mix. C'è il solo Dio. Uno e trino. Facciamo che Dio è quadruplo. Tu sei il tuo Dio. Devo chiamarla maestra. Giro di sprizzi per tutti. Noi siamo nostro Dio. Ci dobbiamo concentrare per il prossimo obiettivo. Lotto per mille. Io nismo, eh? Cioè, io da io e nismo da... Che ci porti altri due sprizzi, per favore? Dio. Dio. Dio.